Con la riapertura della filiera dell'auto, martedì 5 maggio riaprono anche le sedi dell'ACI, l'Automobile Club d'Italia. Nella sede centrale di Lucca verranno adottati diversi accorgimenti per garantire il distanziamento sociale e la sicurezza dei cittadini. La modifica più importante è sicuramente quella dell'ingresso agli uffici. Non si entra più dalla porta anteriore ma è stato approntato un percorso per garantire l'accesso dal retro in modo da evitare che ingresso e uscita coincidano. Grazie a questo e ad altri accorgimenti potrà riprendere l'attività di tutti gli uffici. I servizi saranno la maggior parte su appuntamento, rinnovo patenti o comunque pratiche auto, mentre il bollo auto è possibile comunque pagarlo appunto presso i nostri uffici. Cercheremo anche di sbaltire un po' le file perché sarà possibile pagare anche indicando la targa e attraverso le mail, quindi evitiamo gli assembramenti, semplifichiamo le cose, ripeto, però anche con un sorriso, ripeto, abbiamo passato un momento difficile, non è finita, lo sappiamo, ma reagiamo con, come dire, allegria e forza. Gli orari e tutte le informazioni sull'attività degli uffici sono consultabili sul sito internet dell'ACI di Lucca.